La Regione ripristini i 30 milioni per l'ospedale di Sulmona. Il tema della conferenza stampa indetta dai consiglieri regionali Marianna Scoccia e Silvio Paolucci rivolto al governo Marsiglio. Secondo i consiglieri, la somma, 30 milioni di euro deliberata dalla precedente giunta regionale per l'ammodernamento dell'ospedale Santissima Annunziata, è stata sottratta dall'attuale giunta regionale. Il problema non è, e questo tengo a precisarlo, che i fondi sono stati tolti da Sulmona per essere messi sull'ospedale di Avezzano, perché Avezzano, la Marsica, necessita assolutamente di un nuovo ospedale. Quei fondi inizialmente erano anche messi per l'ospedale di Avezzano ed erano stati messi proprio dall'ex assessore Silvio Paolucci anche per l'ospedale di Sulmona. È evidente che questa logica, cioè di togliere da una parte per mettere da un'altra, dimostra una mancanza di programmazione. 20 dei 30 milioni erano destinati al riscatto del mutuo accesso per la realizzazione del nuovo ospedale di Sulmona. Gli ulteriori 10 milioni servivano per infrastrutturare nella Labolino e per la demolizione del vecchio presidio e la realizzazione di una piattaforma di atterraggio per l'elisoccorso. Il risultato qual è? Che dopo tre anni, 36 mesi, anzi 37 di chiacchiere di questo governo Marsilio, che a mio avviso è il peggiore che la storia della giunta regionale ricordi in questa regione, l'unico atto della programmazione è per togliere 30 milioni nel presidio di Sulmona quando nella precedente legislatura in quattro anni inaugurammo un ospedale nuovo. Per il consigliere comunale ed ex candidato sindaco del capoluogo Peligno, Vittorio Masci, si tratta di una delibera farlocca perché mai approvata dal Ministero e quindi dice non c'è stata alcuna sottrazione. Quindi è come Tamquam non essendoci un piano regionale di edilizia sanitaria approvato dal Ministero, è come se non fosse stata mai presa in considerazione. Ed è previsto comunque anche col PNRR di acquisire ulteriori fondi per ultimare i lavori sulla vecchia struttura così da mettere a posto sia la struttura nuova che la struttura vecchia con l'impiego quindi alla fine totale di questi famosi 30 milioni.